Il 1376 di Giovanni di Porto, un busto reliquiario di Morso, ha tolto la corona e salva una volta di El Teschio, tra i geni molto più importanti, l'alello di San Gregorio Magno, che nel rubbino ci ha inciso una liscia che ingoia un bambino le armi dei Visconti. Giornata dedicata proprio alla Candelori. Per noi è un traguardo bellissimo poter presentare alla città il nuovo cerio che abbiamo voluto dedicare a Sant'Agata per grazia ricevuta e al quale l'abbiamo intitolata con il nome del commendatore Luigi Maina, che tanto ha fatto per la festa di Sant'Agata e che sicuramente è rimasto nei cuori di tutti noi. La Candelora si innalza in più ordini, diciamo che non siamo lontani dalle similitudini delle altre. La cosa che più ci arricchisce è che sulla Candelora, oltre ai manufatti realizzati nelle sculture di Emanuele Sciret e del signor Calì, diciamo che c'è tanto anche del nostro, perché diciamo che ci siamo autotassati facendo il nostro lavoro. Per esempio Silvio, che di mestiere fa l'elettricista, ha realizzato tutto l'impianto elettrico. Il nostro tesoriere Agostino, che gestisce un'azienda di ferro e alluminio, ha realizzato tutta la struttura interna che poi serve per sorreggere la Candelora. Quindi è una Candelora che porta l'orgoglio di tutti quanti noi e speriamo di essere all'altezza, diciamo, di rendere grazie e omaggio alla nostra Sant'Agata. Luigi Maina, perché come diceva l'arcivescovo, la Candelora deve essere un momento di aggregazione, un'unione di tante persone. Noi abbiamo voluto dare proprio il nome di Luigi Maina, perché il commendatore, come noi siamo abituati a conoscerlo, ha fatto tanto per tenere unite le Candelore insieme, dimostrare che comunque sia i portatori non sono quello che si dice in giro. Siamo una famiglia raggruppata oggi in 15 cerei e siamo lì tutti per lo stesso motivo, quindi tenere vivo il nome di Maina in mezzo alla festa che lui amava tanto e ringraziamo che ci hanno dato la possibilità di farlo. Secondo me, secondo noi, è veramente un motivo di orgoglio, ma non solo per noi, ma per tutta la città che ha voluto bene al commendatore Maina. Viva Sant'Agata sempre!